A seguito del grande successo della festa artusiana che ha incoronato a padre della cucina romagnola, ma se vogliamo anche italiana, Pellegrino Artusi, il famoso gastronomo di Forlimpopoli, proprio la stessa città di Forlimpopoli si prepara a partecipare alla Notte Bianca del Cibo, una novità istituita dai Ministeri, dei beni culturali e delle politiche agricole. Laila Tentoni, un'altra notte sta per illuminare i cieli della Romagna, diciamola così in maniera letteraria, quale il programma di eventi della Notte Bianca del Cibo Italiano, che di per sé è una novità? È un programma intensissimo e devo dire un programma miracolo, perché l'abbiamo realizzato in pochissimo tempo, però c'è una sorta di orgoglio artusiano, per cui hanno corrisposto a questa Notte Bianca del Cibo Italiano tantissimi enti, associazioni, comuni, eccetera, per cui da Rimini col Grand Hotel, il Parco Tematico Fico, e destinazione Romagna, destinazione Emilia, con tantissimi eventi, quindi la regione Emilia-Romagna c'è, oltre a questo abbiamo le tre capitali in via simbolica, Torino, Firenze e Roma, e abbiamo anche eventi oltreoceano, con il premio Artusi Gino Angelino da Los Angeles, a Toronto, naturalmente Casa Artusi Filippine, quindi un programma straordinario perché Artusi vive. Come si animerà la piazza di Forlimpopoli quella notte? La piazza di Forlimpopoli è ricchissima di eventi, con tutti i consorsi, con una tavolata enorme davanti a Casa Artusi, con il liscio, quindi si ballerà con la nostra orchestrona della Scuola di Musica Popolare, quindi una notte bianca degna di Artusi e soprattutto degna della città artusiana, Forlimpopoli. Assessore, un grande evento, corona l'estate, l'estate romagnola, emiliana romagnola all'insegna del cibo. Qual è appunto l'incontro tra cibo e cultura del territorio? Con la proclamazione dell'anno del cibo italiano, il Ministero dell'Agricoltura insieme a quello del cultura e turismo hanno lanciato anche la notte bianca del cibo italiano, che ci sarà in tutta Italia ovviamente, però la notte bianca è stata scelta sul 4 agosto perché è la data di nascita di Pellegrino Artusi, quindi questo naturalmente responsabilizzava particolarmente l'Emilia Romagna, non è un caso che oggi presentiamo tutto il palinsesto di iniziative estive che faremo proprio qui a Forlimpopoli, a Casa di Artusi, perché per noi è un grande onore che ancora una volta l'Emilia Romagna sia al centro del binomio cultura, turismo, agricoltura. È abbastanza evidente che questo sarà una cosa su cui si lavorerà molto anche in futuro, noi in verità è fin da Expo che lavoriamo molto su questo e quindi ci è stato anche facile mobilitare come al solito tutta la rete dei consorzi, delle destinazioni turistiche, degli agricoltori, di tutti coloro che normalmente stanno con noi in questa occasione, i chefs, sommelier, questa grande rete che è quella che ci ha permesso da Expo in poi di fare grandi exploit e anche di essere segnalati alla fine sulla Nonly Planet come top destination per il 2018, probabilmente anche per questo, perché qui è molto facile anche frequentare i luoghi della produzione del nostro cibo, oltre che trovare sistemazioni e offerta turistico-enogastronomica di ottimo livello. È una costante ripetizione ma è sempre necessario ribadirla, vale a dire l'Emilia Romagna, ogni evento soprattutto se riguarda il cibo, la filiera alimentare, diciamo richiama sempre due elementi principali, da una parte l'internazionalizzazione e dall'altra parte l'innovazione. Sì, lo facciamo sempre per questo, perché naturalmente avere questa attenzione internazionale ci costruisce una reputazione che poi è spendibile sul piano dell'export e lo abbiamo visto bene perché il nostro export è aumentato molto in questi ultimi tre anni, adesso siamo arrivati a 6 miliardi e 200 milioni di export agroalimentare, di cui quasi due sono fatti solo dalle DOP e dall'IGP, per dire che noi abbiamo anche un export di grande qualità che si fa riconoscere. È chiaro che all'estero bisogna parlarne, devono conoscere l'originale naturalmente e quindi tutte queste attività che facciamo sul territorio sono anche molto funzionali a tenere alta la nostra reputazione e la nostra immagine all'export. Questo serve ovviamente anche ai produttori agricoli, perché permette di costruire più valore intorno alla filiera che peraltro in questi giorni abbiamo appena sostenuto anche con 134 milioni di euro, per cui noi ce la stiamo proprio mettendo tutta. Assessore, all'indomani del successo della Notte Rosa appunto siamo pronti a presentare un ennesimo, speriamo successo, voglio dire una novità tutta incentrata sul cibo, la Notte Bianca. Sì, dopo lo straordinario successo che devo dire è una conferma appunto di questa grande forza comunicativa e attrattiva della Notte Rosa, ci apprestiamo appunto a vivere un'altra notte indimenticabile con la notte del cibo italiano, in questo caso del cibo emiliano-romaniano nel mondo, un'iniziativa che nasce per celebrare appunto le eccellenze del patrimonio agroindustriale del nostro paese, dei grandi prodotti che fanno grande appunto l'Italia e nel mondo, che sono parte fondamentale del Made in Italy. Partito un po' in sordina, ma che vedo sta raccogliendo tantissime adesioni, non solamente i ristoratori, non solamente Casa Artusi, naturalmente che è al centro di questo programma, se non altro perché il 4 agosto è appunto stato scelto perché è data di nascita di Pellegrino Artusi, ma devo dire anche i castelli del Ducato di Parmi e Piacenza, i musei del gusto, i tanti musei del territorio, le case della memoria che proporranno cibi e tema, quindi un movimento dal basso che è stato coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall'assessorato all'agricoltura e dall'assessorato al turismo, che parte quest'anno per la prima volta e che io credo davvero possa rappresentare negli anni un ulteriore grande evento di sistema, perché questa è la parola d'ordine, cioè fare squadra, fare sistema, presentarci al mondo appunto come un territorio dalle grandi potenzialità che lavora in squadra appunto per fare dell'Emilia-Romagna una Regione sempre più attrattiva. In questo caso naturalmente i nostri ambasciatori sono, oltre a Pellegrino Artusi, grandi prodotti della tradizione gastronomica emiliano-romagnola, a partire ovviamente dai 44 prodotti DOP e IGP, che in molti casi sono i nostri ambasciatori nel mondo e attorno ai quali in questi anni abbiamo costruito una filiera di promozione turistica che ci sta dando grandi risultati. Ecco, esatto, proprio grazie all'impegno della Regione e in collaborazione con i commercianti del territorio e anche con la popolazione, l'Only Planet ha proprio incoronato l'Emilia-Romagna come una delle regioni, possiamo dire così, migliori dalla maggiore attrattività. Sì, non una delle migliori ma la numero uno perché la Lonely Planet ci ha gratificato con questo grande riconoscimento Best in Europe 2018, quindi l'Emilia-Romagna come miglior destinazione turistica del 2018. Questo riconoscimento è un riconoscimento importante perché soprattutto premia il lavoro, lo sforzo collettivo di tutti i soggetti che hanno a vario titolo responsabilità rispetto all'attrattività del nostro territorio, quindi non solo le istituzioni ma anche e soprattutto le imprese, gli operatori privati. Non è un regalo ma è un riconoscimento meritato che oggi però ci mette di fronte naturalmente anche a una grande responsabilità perché non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo mantenere alto il livello della nostra offerta e soprattutto cercare continuamente di innovare la nostra offerta turistica per rispondere alle moderne esigenze del viaggiatore e per provare a costruire delle nuove esperienze in grado di intercettare nuovi flussi turistici. Assessore, presentata la Notte Bianca del Cibo, sempre nel segno del famoso gastronomo di Forlimpopoli Pellegrino Artusi, quale sarà il programma di eventi, quali i momenti principali? Allora, noi quest'anno abbiamo praticamente un prolungamento della nostra festa artusiana con il 4 di agosto. Il 4 di agosto è la data di nascita di Pellegrino Artusi e noi lo dobbiamo in qualche modo festeggiare. È una scelta fatta dal nostro Ministero dell'Agricoltura e della Cultura che hanno voluto che nell'anno del cibo ci fosse questo evento. Questo evento Forlimpopoli lo festeggiamo nella maniera più ampia possibile tenendo conto di tutte le difficoltà che ci sono in un periodo come quell'estivo. Praticamente organizzeremo una grande cena proprio nella strada via Andrea Costa che è la strada dove c'è casa Artusi. Faremo un evento in piazza insieme ai consorsi Emiliano Romagnoli e a Tramonto Divino che farà la chiusura della Chermes che viene organizzata nel mese di luglio. Poi abbiamo delle mostre, abbiamo una mostra importante che è quella di Marzelli. Marzelli è l'artista scultore che ha fatto praticamente la statua di Pellegrino Artusi che noi consegniamo nel momento del premio Artusi. Poi abbiamo altre situazioni, altre mostre, altre cose, ma tutto impregnato praticamente su questa grande cena. Tutto questo che ho raccontato così velocemente è possibile farlo col grande aiuto dell'associazione di volontariato di Fornipopoli che devo sempre comunque ringraziare perché se non ci fossero le associazioni avremmo delle grosse difficoltà.